Ma tu, hai mai sognato di fare altro? Buongiorno, è il vostro capitano che vi parla. La temperatura è di... 28 gradi? Stiamo volando a... 15.000 piedi. 15.000 piedi. Non sa quanti cocce facevo? Io con 15.000 piedi. No, però c'avevo i numeri. Quando hai i numeri giusti, coglili al volo. No, ma 15.000 non c'è. Ma che... Sto scherzando. Con 10 all'8 scegli da 1 a 10 numeri e in 5 minuti scopri subito se hai vinto. 10 all'8. Questo sì che è un gioco. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Il gioco è un gioco.